volge al termine il mese di giugno ma si inizia ad entrare in pieno fermento sotto tanti aspetti dal calciomercato ma soprattutto all'imminente closing che avverrà col City Football Group oramai manca praticamente la firma poi tutto inizia già a delinearsi però partiamo sicuramente ad un aspetto molto importante perché il 21 giugno è stata depositata l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B da parte del Palermo è stata firmata e ovviamente inviata la fideiussione una cifra intorno agli 800 mila euro e ovviamente questo è un dato di partenza straordinario considerato anche quello che si respirava quello che si diceva attraverso i commenti delle trasmissioni ma anche quello che dicevano per strado tramite i social i tifosi del Palermo in due mesi lo scenario è completamente cambiato adesso siamo arrivati siamo passati da un limbo quello della Serie C ad una straordinaria promozione in cadetteria quindi questo è il primo punto di partenza fondamentale da cui ripartire quando arriverà questo closing si era paventata inizialmente l'ipotesi della fine del mese di giugno più probabile invece aspettare i primi giorni di luglio comunque manca veramente pochissimo si parla già di una possibile conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera nella quale ovviamente ci sarà tutto il nuovo organigrammo comunque il presidente Mirri che dovrebbe restare a ricoprire questa carica almeno per la prossima stagione poi verrà spiegato tutto a livello di cifre anche se già ne abbiamo abbondantemente parlato nel corso delle precedenti edizioni disco di gold sport e di speciale gold sport ma come sempre ogni giovedì andiamo a salutare Gabriella Di Carlo ciao Gabriella ciao Simone soprattutto ciao a tutti voi che bello essere di nuovo qui e parlare finalmente lo possiamo dire nella stragrande maggioranza delle cose notizie positive in questo caso il termine positivo dai lo possiamo dire e come sempre mi raccomando vi aspetto leggeremo in diretta i vostri messaggi quindi seguiteci sui nostri canali social gold sport ma sette gold sicilia ma anche tifosi palermo.it e sul canale youtube così da poter dire anche la vostra perché il giovedì è questo dedicato al social e ovviamente Simone non mancano come ci piace dire i nostri ospiti amici assolutamente sì è un palermo che si prepara a vivere da protagonista una nuova stagione con tanti cambiamenti allora introduciamo per la prima volta con grande piacere all'interno della trasmissione speciale gold sport in questo caso del giovedì cristiano si metti io ti presento come esperto di calciomercato visto che quest'anno hai avuto la possibilità di collaborare con quello che tutti considerano il numero uno in materia di calciomercato quindi con nella casa di cì sì intanto grazie mille Simone per l'invito è un onore essere qui sì sto sto cominciando ad adentrarmi nel calciomercato in maniera importante ovviamente con la guida di Gianluca di Marzio che come hai detto tu è il maestro in questo settore e ovviamente sono contentissimo di poter parlare di palermo della della squadra che che tutti noi sosteniamo in una stagione molto molto complicata ma che ci ha regalato soddisfazioni veramente inaspettate ma bellissime prima di andare a parlare delle ultime novità perché già ci sono i nostri amici che sono in grande fermento perché vogliono sapere i nomi nuovi la rivoluzione copernicana qui assisteremo per ciò che concerne l'organico del club rosa nero sia organigramma sia ovviamente prima squadra eh ti chiedo di condensare in qualche eh in un minuto dai hai sessanta secondi a tua disposizione le tue emozioni seguendo questo rush finale incredibile con l'inattesa promozione in B sì io ho seguito moltissimo il Palermo in generale tutta la serie C quest'anno e devo dire che era un campionato molto insidioso infatti io in primis lo ammetto non non pensavo che il Palermo potesse arrivare a questo punto credevo nei playoff ma non che potesse arrivare fino alla promozione devo dire che il Palermo dei playoff ha cambiato pelle in positivo nel senso che il Palermo della stagione regolare ha avuto un cammino piuttosto continuo ma spesso è inceppato in qualche in qualche eccidente di percorso mentre nei playoff ha proprio dato la sensazione di essere una squadra di categoria superiore soprattutto a livello mentale quindi riusciva a gestire benissimo soprattutto la trasferta ricordiamo sempre vittorie in trasferte soprattutto con risultati pesanti per esempio con la Feralti Salò tre a zero fuori casa un po' gettato le basi per per la partita di ritorno e quindi soprattutto questo aspetto di di testa dei giocatori anche ovviamente grazie al mister Baldini è quello che mi ha impressionato di più oltre ovviamente alla guida eh in campo di Matteo Brunori che ci ha trascinati con con i suoi ventinove gol però ripeto l'aspetto che mi piace molto sottolineare proprio l'aspetto mentale la consapevolezza della squadra nelle difficoltà nel dimostrare di volere a tutti i costi la categoria. Assolutamente sì tu hai fatto il nome di Brunori che eh calcisticamente è stata l'autentica rock star ventinove gol addirittura ad un passo dal record realizzativo di Luca Toni nella stagione duemila e tre duemila e quattro Luca Toni quell'anno in una serie B stellare che era di fatto una serie A allargata eh riuscì a siglare ben trenta gol Brunori si è fermato a ventinove tra regular season e playoff ci sono delle novità importanti di mercato su Matteo Brunori intanto lui si sta godendo la luna di miele con la moglie eh Dalila però tramite il suo procuratore tramite il suo entourage l'attaccante italo americano eh italo scusate brasiliano ha fatto sapere che se dovesse restare in serie B la sua priorità sarebbe quella di continuare a indossare la maglia rosanero dunque tramontata definitivamente l'ipotesi eh Cagliari però eh ci sono Cristiano tante squadre di serie A fortemente interessate a Brunori ed è questo quello che potrebbe far vacillare l'entourage di Brunori. Sì è quello che un po' spaventa ovviamente tutti i tifosi pensare che Brunori non possa trascinare il Palermo anche l'anno prossimo sicuramente sarebbe un duro colpo anche perché credo che sarebbe la perfetta continuazione di un matrimonio molto bello che che si è sviluppato quest'anno io credo che Brunori abbia le intenzioni di rimanere al Palermo è previsto nei prossimi giorni un incontro tra la gente di Brunori Stemperini e la dirigenza della Juventus e ovviamente anche con la dirigenza del Palermo per capire un po' la fattibilità dell'operazione la Juventus chiede cinque milioni si potrebbe anche chiudere a quattro e mezzo come hai detto tu Simone Brunori ha fatto capire che in serie B lui sceglie il Palermo però è chiaro che se arrivassero offerte dalla serie A importanti si è parlato anche di Sampdoria è chiaro che un giocatore come Brunori che è del novantaquattro quindi a ventott'anni non è più diciamo un ragazzo di venti è chiaro che potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di di andare in serie A perché un treno che non passa soprattutto soprattutto la Sampdoria soprattutto la Sampdoria che insomma potrebbe vedere in Brunori una valida alternativa del suo parco attaccanti però c'è anche da dire e da sottolineare l'aspetto economico ecco tu hai detto la Juventus base di partenza per strappare il cartellino alla vecchia signora il cartellino di Brunori cinque milioni si potrebbe no applicare una sorta di carezzina premio fedeltà visto appunto il prezzo del cartellino che li è evitato proprio per la sontuosa stagione che Brunori ha vissuto qui a Palermo quattro e mezzo si potrebbe anche arrivare a quattro milioni perché dico un milione mezzo milione per la Juventus non sarebbe quello il problema però c'è una domanda che in tanti nostri amici e tifosi del Palermo stanno facendo nel corso missioni ok Brunori riconoscenza massima nei confronti di questo giocatore però andando a vedere le sue statistiche precedenti in serie B non è che abbia fatto sfraceli quattro e mezzo piuttosto che cinque piuttosto che quattro milioni più l'adeguamento contrattuale che ovviamente li eviterà in maniera esponenziale forse si potrebbe trovare anche di meglio rispetto a Brunori non è una mia chiave di lettura ma è una domanda che io ti giro perché ce la stanno facendo in tanti. È chiaro che la valutazione che si fa può essere anche quella e credo che anche il Palermo stia facendo quella valutazione bisogna capire poi quali sarebbero le alternative a Brunori perché è chiaro che come hai detto tu Brunori non ha fatto sfraceli in serie B però viene da una stagione così importante che 29 gol è vero che sei in serie C ma bisogna fargli 29 gol quindi credo che dopo una nata del genere il giocatore stesso abbia acquisito una consapevolezza maggiore sia anche cresciuto grazie al Palermo grazie alla piazza quindi io sinceramente se fossi il Palermo a meno che non ci sia un'alternativa di assoluto rispetto che magari ha esperienza nella categoria io andrei su Brunori anche per premio al giocatore che ha fatto cose importantissime che tutti abbiamo visto che in serie C era assolutamente di una categoria superiore a quello che era il campionato. da quando è arrivato Baldini perché prima dell'arrivo di Baldini Brunori molti non lo ricordano aveva fatto appena sette gol no sette gol sette gol e poi con l'arrivo di Brunori c'è stato anche un aneddoto molto carino che il tecnico di Massa Carrara ha voluto evidenziare poi dopo il trionfo dei playoff io avevo detto a Brunori se seguirai quelle che sono le mie indicazioni potrei arrivare a 30 gol. Brunori incredulo mister Massinquini ho fatti soltanto sette poi ci ha andato vicino Baldini. Primi messaggi. Vado nei commenti. Allora intanto salutiamo Vincent Basso che si è collegato con noi e anche Francesco Zoida che ci dice buon pomeriggio a tutti ma sapete esattamente Francesco fa proprio nel dettaglio quando ci sarà l'ufficialità del passaggio di società ed eventualmente la percentuale di vendita allo sceicco grazie. Simone consulta la tua sfera di cristallo. No no è ancora diciamo l'ufficialità la data come dicevo nell'incipit di Speciale Gold Sport non è stata eh tra virgolette ratificata non è stata resa nota noi diciamo tra fine giugno e i primi di luglio i colleghi della redazione di Live Sicilia eh avevano eh scritto la possibilità di vedere una conferenza stampa al Barbera eh martedì prossimo vada a memoria giorno ventotto di eh di giugno però sono soltanto delle indiscrezioni sono soltanto delle voci perché non c'è nessun comunicato ufficiale non c'è la conferma da parte dei vertici dell'attuale società del del Palermo anche perché eh adesso il ritorno a Cristiano cambierà molto l'organigramma del Palermo in previsione di questo closing col football Citigroup già c'è un dato vediamo se lo riusciamo a fare vedere regia questo è l'organigramma che attualmente figura nel sito istituzionale Palermo FC punto com ovviamente presidente Dario Mirri segretario generale Giuseppe Livini direttore sportivo Renzo Castagnini che dovrebbe essere riconfermato così Baldini e Felice eh eccetera eccetera non figura più il nome di di Rinaldo Sagramola eh con la carica di ehm eh aiutatemi ora è direttore generale di amministratore delegato perché prima figurava come amministratore delegato ruolo che dovrebbe essere ricoperto da Gardini che è uno degli emissari uno degli uomini di fiducia proprio dello sceicco Mansur questo è già un chiaro segnale. Certo diciamo anche che alla risposta del del pubblico si presuppone che lo sceicco Mansur debba avere l'ottanta per cento e che Mirri abbia invece il venti per cento delle quote e poi bisognerà anche capire il ruolo che avrà Mirri effettivo all'interno della società e quale sarà diciamo il suo potere decisionale ovviamente spetterà al Football City Group capirlo è chiaro che comunque la struttura societaria cambierà credo che rimarrà Castagnini anche se ancora non abbiamo l'ufficialità e secondo me è giusto che rimanga anche per il lavoro fatto quest'anno col Palermo credo anche che ci saranno diversi diversi colpi di mercato sia in entrata che in uscita perché ricordiamo Simone che ci sono sette giocatori scadenza che bisognerà anche capire un po' la nuova società che valutazioni farà farà su di loro e in base a quello ovviamente anche le entrate che dovranno diciamo coprire un po' i ruoli che verranno che verranno a mancare. Con tutti i parametri nuovi da considerare per quel che riguarda il campionato di Serie B c'è la possibilità di avere l'opzione due bandiere ossia due bandiere del club giocatori che militano anche considerando il loro percorso partendo dal settore giovanile ma devono avere almeno quattro anni di militanza in questo caso visto che parliamo del Palermo con il club rosa nero poi ovviamente anche il discorso legato agli under i under 23 insomma ci sono dei parametri da tenere in grande considerazione perché tanti giocatori tra fine prestito e scadenza di contratto sono con un bel punto interrogativo che sta sopra la loro testa. Andiamo ancora con i messaggi. Intanto salutiamo Rosa Nero Amore Vero che ci sta seguendo e poi c'è Vittorio Agrifoglio che dice confermate la conferenza fissata per il 28? Appena detto Vittorio c'era stata questa indiscrezione dei colleghi Sicilia però al momento non risultano ulteriori elementi per poterti dire sì ci sarà la conferenza stampa di presentazione il 28 di giugno piuttosto che in un'altra in un'altra giornata. Bisogna avere un po' di pazienza diciamo che tifosi del Palermo ne hanno avuta veramente tanta dalla rinascita dalla ripartenza dopo il fallimento del campionato di Serie D quindi non sarà una settimana o dieci giorni sicuramente a scombussolare il tutto ecco. Francesco invece torna a chiederci parlando di Brunori quindi con il discorso che facevamo poc'anzi secondo me si potrebbe chiudere tra tre milioni e mezzo e quattro cinque forse la richiesta più alta. Tre milioni e mezzo poi se così fosse sarebbe straordinario un affarone per il Palermo più probabile quattro con una carezzina che magari il Palermo potrebbe applicare o meglio la Juventus potrebbe applicare al Palermo ma tre e mezzo no perché diciamo due e mezzo tre milioni era già la valutazione di Brunori con una stagione tra virgolette tranquilla normale nel campionato di Serie C dopo che hai fatto 29 gol e sei stato il capo cannoniero assoluto non soltanto del girone meridionale del girone C ma di tutti i gironi del campionato di Serie C sicuramente questo ha fatto lievitare molto il cartellino di Brunori quindi io penso sui quattro milioni che si possa chiudere l'offerta. Alessandro Ribella invece chiede quando si sblocca la vicenda legata a Di Piazza il Tribunale di Catania non ha fissato una data? Questa è una bella domanda Alessandro perché inizialmente sempre parlando della cessione al City Football Group si era parlato dell'ottanta per cento delle quote alla holding che fa a capo allo Sheikko Mansur e il restante venti nelle mani di Dario Mirri con ancora l'opzione di restare presidente per la prossima stagione. Poi si è parlato di sessanta per cento delle quote subito al City Football Group e il quaranta ancora nelle mani di Mirri per proprio la vicenda legata alla querel Mirri di Piazza. Una volta risolto questo si tornerà all'origine ossia altro venti per cento di pacchetto azionario acquistato dal City Football Group e poi eh in eh previsione futura la parte che resta nelle mani di Mirri dovrebbe totalmente essere acquisita dal City Football Group. Questo almeno è quanto ehm come dire siamo riusciti a raccogliere nel corso di queste ultime intense settimane tra calciomercato e tra eh appunto cessione societaria alla holding che fa a capo allo Sheikko Mansur. Però ancora non c'è una una data precisa per questo. Mentre invece abbiamo Salvo Ravicini che dice ciao a tutti. Cosa cambia ventotto ventinove primi di luglio? State tranquilli. Oramai la nuova società c'è step by step. Ha voluto rassicurare tutti. Infatti assolutamente. Poi c'è Vincent che dice giusto lasciare l'intelaiatura dirigenziale sarebbe il giusto premio per il lavoro svolto. Io qua vado un po' controcorrente. Perché se non fosse stato per il miracolo Baldini io penso che questa società avrebbe continuato ad avere veramente tante critiche perché non è che dobbiamo scordarci tutto quello che era stato fatto male. Massima riconoscenza per la società che ha investito e che è riuscita a portare il Palermo in tre anni in serie B però il vero miracolo a proposito di lettera B l'ha fatto Baldini. Sì diciamo che a secondo dei risultati ovviamente i tifosi tendono sempre a dare un'opinione diversa. Se il Palermo avesse fatto male quest'anno ovviamente sarebbe stato tutto da buttare. Essendo che il Palermo ha fatto questo miracolo sportivo se così vogliamo chiamarlo ovviamente in questo momento è tutto rose e fiori. Si tende un po' a dare tutto per buono quindi anche ovviamente la struttura dirigenziale. Io sono sono d'accordo con te penso anche però che ci siano dei riconoscimenti da parte da parte della dirigenza anche nell'aver nell'aver chiamato Baldini che poi è stato bravissimo a creare un feeling un feeling importantissimo con la storia. Si era chiamato. In realtà si pensa Castagnini poi. No te lo confermo al cento per cento è stato Castagnini che lo voleva addirittura già da almeno un anno prima prima di chiamare Boscaia poi le strade si sono divise. Baldini aveva accettato l'offerta della Carrarese Boscaia aveva ancora la possibilità di venire a Palermo poi ancora sotto contratto ora dovrebbe svincolarsi per raccasarsi da un altro posto però soltanto Castagnini. Difatti Baldini ha fatto la voce grossa aspettando la fine dei playoff ma l'unico nome che ha fatto è stato quello di Castagnini. Poi ha fatto dietro front però è un chiaro segnale della stima professionale ma umana perché Castagnini anche quando le cose nel primo periodo di gestione Baldini non andavano benissimo lo sosteneva dal punto di vista psicologico dal punto di vista umano e la riconoscenza di Baldini è una la palissiana dimostrazione. Infatti credo che questo duo rimarrà collegato nel senso non abbiamo notizie certe a riguardo ma io credo che se rimanga Baldini rimarrà anche Castagnini perché dopo dopo appunto la fiducia che Castagnini ha avuto nei confronti di Baldini credo sia quasi impossibile vedere vedere Baldini sulla panchina del Palermo senza la presenza di Castagnini che tra l'altro sta già muovendo passi importanti sul mercato tornando al discorso Juventus il Palermo ha anche messo gli occhi su Nicolussi Cavia che è un giovanissimo molto molto promettente della Juventus Under 23 è stato molto sfortunato perché ha vissuto un periodo di grande di grande buio calcistico dovuto a un infortunio al ginocchio che l'ha tenuto fuori per 15 mesi è rientrato nella seconda parte di stagione nei playoff ha fatto molto bene perché è veramente un ragazzo talentoso classe 2000 ha giocato anche nel Perugia e nel Parma e nella Juventus Under 23 si è messo in mostra con con grande personalità Gran bel prospetto quindi credo che anche le mosse di Castagnini in chiave mercato certificano il fatto che meriti la riconferma in assoluto Assolutamente sì si fanno già anche diversi nomi abbiamo parlato di questo talento molto promettente appena adesso con Cristiano Simeti ci sono anche diversi giocatori alcuni dei quali veramente molto interessanti di proprietà del Milan in orbita Palermo facciamo qualche nome sì Blizzari per la per la porta un classe 2000 perché appunto attuale portiere dell'Under 21 italiana veramente veramente considerato un fuori classe sì sì assolutamente perché tra l'altro Pelagotti è in scadenza e probabilmente non rinnoverà col Palermo quindi rimarrà Massolo che ha meritato assolutamente la riconferma dopo dopo l'ottima stagione e Blizzari potrebbe potrebbe contendere il posto con Massolo poi non sappiamo qualora arriverà se farà il primo se farà il secondo però sicuramente un giocatore che il Palermo ha puntato quest'anno ha fatto abbastanza bene seppur con poco spazio nel Lecce in Serie B però ha avuto lo spazio per poter mettersi in mostra un prospetto di grande di grande potenzialità sempre del Milan c'è Nasti che è un attaccante classe 2003 quindi giovanissimo anche lui un prospetto interessante ci sono dei video su YouTube ho visto pure un paio di partite vabbè per mie malattie mentali del campionato primavera veramente veramente molto bravo bel tiro da fuori eh molto rapido ed esplosivo nelle gambe dribbling secco è un giocatore che già secondo me potrebbe fare molto bene in cadetteria se trova un buon maestro diventa veramente forte il campionato primavera secondo me è un po' sottovalutato perché ci sono giocatori veramente forti e fare 17 gol come ha fatto Nasti e 7 assist nel campionato primavera non è cosa da poco soprattutto quando vesti una maglia comunque pesante come quella del Milan seppur sei in primavera assolutamente e poi Brescianini che è un altro giocatore di proprietà del Milan che quest'anno ha fatto 6 presenze col Monza in Serie B non in grandissima non è stato molto in mostra non ha avuto tantissimo spazio però comunque ha avuto la sua esperienza in Serie B potrebbe fare molto comodo a Palermo nelle rotazioni anche lui in classe duemila quindi secondo me anche è giusto che il Palermo crei un giusto mix tra giovani e gente più esperta abbiamo detto di Bruno in 94 però avere gente classe duemila classe duemila tre che può anche ringiovanire la rota secondo me è molto importante c'è Giulio Zambito che ci rimprovera leggete tutti i commenti sono quelli che fanno comodo a voi no li leggiamo li leggiamo tutti Giulio non non ti preoccupare quindi abbiamo appena letto il tuo io do una mano pure a Gabriella perché bontà vostra tra lunedì e giovedì essendo seguitissima la nostra trasmissione speciale Gold Sport ne arrivano veramente tanti quindi ci scusiamo qualora non dovessimo riuscire a leggere tutti i vostri commenti vi chiediamo scusa ma continuate a scrivere perché se non riusciamo a farlo in questa diretta leggeremo i vostri commenti nella prossima grazie e a proposito commenti leggiamo allora il commento subito di Giulio allora Giulio chiede il giornalista che fa no no vabbè questo no andiamo avanti no lui ha letto solo quello ok ok ha scritto solo quello capito eh sì andiamo avanti dai allora sono veramente tanti quindi noi adesso facciamo di tutto per poterli leggere al di là del miracolo sportivo secondo me dobbiamo dire che le disgrazie del Catania saremmo qui a parlare d'altro anche ha eh ha cambiato i playoff parliamo di Salvatore Bellomonte però dobbiamo anche dire che la situazione del calcio siciliano è un po' triste diciamo anche la vicenda del Catania rattrista tutti noi la vicenda del Catania il futuro del Messina della CR Messina appesa ad un filo eh fortunatamente Sciotto sta con grandi difficoltà mantenendo la parola eh notizia di qualche ora dietro è riuscita a pagare e a presentare la fideiussione quindi comunque ancora la CR Messina che resta con un futuro totalmente in bilico perché Sciotto l'ha detto io non ho più la forza il potere economico per fare un altro anno di serie C ma non arrivano delle offerte il Palermo stesso società gloriosa che era diventata una nobile decaduta fortunatamente in tre anni è riuscita a salire in B è un momento molto triste e delicato per il calcio siciliano considerando anche il Trapani che non riuscì nella passata stagione a fare neanche una una partita eh quindi sul Catania una bella domanda cerco di rispondere io poi sentiamo anche il parere di Cristiano è vero è inutile nascondersi il Palermo io lo ricordo ancora era alla vigilia della gara col Monopoli in occasione di quella partita il Palermo se non fosse stato radiato o meglio estromesso dal campionato di serie C in quel momento il Catania avrebbe giocato contro la squadra di Colombo contro il Monopoli con sei punti di distacco in un colpo solo i giocatori del Monopoli si svegliano e si presentano con meno sei punti elevati e poi perdendo con il Palermo vanno a meno nove dai dai rosa nero quindi sicuramente è cambiato qualcosa è come i punti che hanno levato al Monopoli anche tante altre squadre però io ricordo che c'era un derby alle porte con il Catania che era una fase calante della stagione il Palermo che invece aveva iniziato il suo percorso importante e quindi secondo me quel derby poi non sappiamo con i secconi ma magari il Palermo l'avrebbe potuto vincere sì sicuramente se parliamo però è stato tutto scombussolato sono d'accordo con con Salvatore Bellomonte perché la cosa assurda Salvatore e scusami Cristiano se ti ho interrotto poi mi taccio però ci tengo a precisarlo perché l'ho detto tante volte nel corso delle nostre programmazioni la cosa paradossale qui non è parlare della situazione del Catania del Palermo del Monopoli o dell'Avellino la cosa paradossale è il sistema calcio che consente ad una squadra che ha tantissime problematiche dal punto di vista finanziario e si sapeva già da più di due anni perché il debito di Torre del Grifo il debito hanno cercato di aiutare il Catania in tutti i modi possibili anche tramite il tribunale della città etnea ma non puoi tu andare a destromettere una squadra tre giornate dalla fine perché il Trapani aveva tante problematiche ciao Trapani ci dispiace non ti iscrivi al campionato e la stessa cosa dovevi farla con il Catania perché arrivare a tre giornate dalla fine poi levando i punti a tutte le altre competitor usa un termine forte lo vai inevitabilmente a falsare il campionato no no è il termine è il termine corretto secondo me è un campionato sicuramente scombussolato ecco se vogliamo trovare magari un altro un altro termine ma il significato non cambia sicuramente dal punto di vista del Palermo è stato un vantaggio ma io ci tengo a sottolineare che quella partita col Catania sarebbe stato bello poterla giocare perché a prescindere dal risultato finale un derby siciliano di questa portata che anche in Serie A ha fatto per anni la storia dei derby della Serie A credo che sia sempre un bene giocarlo e quindi a me personalmente è dispiaciuto molto vedere il Catania in questa situazione e allargando un po' il concetto non soltanto alla Sicilia ci sono tante realtà che negli ultimi anni sono un po' decadute penso al Chievo penso al Parma penso anche alla Salernitana che quest'anno ha rischiato anche di non di non terminare il campionato di Serie A poi per fortuna anche del del movimento italiano ci è riuscita ma con tante complicazioni si è riuscita anche a salvare però appunto il problema è alla base come hai detto tu diciamo già il fatto stesso anche l'Akragas dice giustamente Antonio Lombardo che purtroppo ha perso i playoff per andare in Serie A quindi è un momento delicato momento complicato il Palermo ha sicuramente risollevato un po' le sorti del calcio siciliano ma non credo basti per quello che era il movimento siciliano un tempo ricordiamo che anche il Catania e il Messina era in Serie A ed era una squadra di assoluto livello quindi dispiace assolutamente credo che dispiace non solo a noi siciliani ma a tutti gli appassionati di calcio italiani soprattutto perché vedere certe squadre che hanno avuto una storia importante decadere in questo modo e non avere neanche diciamo le basi per poter ricominciare in maniera in maniera concreta è sicuramente qualcosa che fa molto dispiacere per il movimento italiano perdonami Gabriella no Giulio a parte che ci sono modi e modi per porsi perché io capisco che dietro uno smartphone dietro una tastiera dietro un pc tutti le sentiamo tutti leoni io sarei curioso di sapere ma non per creare un alterco verbale a distanza assolutamente no chi mi conosce sarà la mia educazione però sarei curioso di sapere se tu una persona che non conosci vedendola di presenza dici sei una cima sei una cima in matematica oppure altri messaggi che hai scritto in precedenza ascolta meglio prima di lasciare libero sfogo alla tua non so cosa ira funesta se hai ascoltato con attenzione io non ho detto che al monopoli hanno tolto 12 punti io parlavo del al monopoli hanno tolto 12 punti considerando cioè scusami al monopoli hanno tolto sei punti che erano quelli che aveva conquistato con il catania ma io ho detto nove punti perché facevo il riferimento tra la partita che ancora doveva disputarsi tra palermo e monopoli ok dopo quella partita già avevano levato i sei punti al monopoli ottenuti con il catania perdendo con il palermo il monopoli in un colpo solo è andato a meno nove dei rosa nero io intendevo dire questo probabilmente non hai ascoltato con attenzione io non sarò una cif una cima in matematica perché magari gli algoritmi non erano il mio forte andavo meglio in latino andavo meglio in italiano in filosofia in storia però ti assicuro che se avessi ascoltato meglio avresti capito che i nove punti piuttosto che sei erano in riferimento i punti che poi il monopoli ha perso nei confronti del palermo dopo lo scontro diretto tutto qui ora finiamo questa polemica a distanza però però è giusto secondo me essere sempre educati ma stai tranquillo perché io penso che ho ancora bisogno dell'editina per fare no 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 però cristiano io penso di avere fatto un ragionamento lineare palermo monopoli prima di quella partita il monopoli era tanti punti sopra il palermo era sei già era sei punti sopra poi il palermo gli levano i sei punti per il discorso del catania poi c'è quella partita il monopoli va meno nove dal palermo è molto molto lineare io ti devo dire questo comunque pace amore e armonia vado avanti però restiamo in tema domani sai perché perché sarò galatioto ci chiede anzi fateci sapere se voi lo sapete come si dice piccioli un cinné in arabo chiedo per un amico non lo so dobbiamo iniziare a studiare però una cosa la possiamo dire il city group che sicuramente avendo già 11 squadre nella sua orbita avrà sicuramente un comparto di comunicazione marketing degno di nota giusto per utilizzare un eufemismo qui si potrebbero creare delle cose dal punto di vista di immagine di brand incredibili perché il vecchio nome di palermo era aziz quindi comunque c'è un grande richiamo alla cultura araba quindi si potrebbe fare vabbè il percorso arabo normano sull'asce dell'appartenenza di nuovo assolutamente sì assolutamente sì poi già essere affiancati secondo me a squadre del calibro anche del new york city che ovviamente calcisticamente non è una squadra di niente però non vinto il loro campionato però non vinto il loro campionato e comunque parliamo sempre della squadra di new york e melbourne comunque squadra importante è montevideo montevideo dove hanno costruito il centro sportivo più grande del sud america voglio dire oltre a squadre del giappone della cina quindi comunque essere affiancato già a queste squadre cioè il palermo è la prima squadra italiana di proprietà araba sarà a breve la prima squadra italiana di proprietà araba quindi credo che questo sia motivo di grande orgoglio non solo per i palermitani ma per tutti gli italiani secondo me sono pienamente d'accordo adesso invece ve ne leggo due che mi chiedono diciamo fanno la stessa domanda c'è Luigi Pagano Rizzo e Peppe Vitale che chiedono il centro sportivo è ancora indefinito è possibile Peppe vorrei sapere novità del settore giovanile del centro sportivo quindi abbiamo fatto una sorta di novità del centro sportivo che hanno messo qualche paletto qualche pietra c'è il progetto che ovviamente che è stato ratificato tutto anche gli emissari del siti vado a memoria in occasione di Palermo Triestina prima di Palermo Triestina sono andati a fare un bel giretto anche per cercare di capire quelle che sono le potenzialità a livello di infrastrutture che possono gravitare intorno all'universo Palermo però al momento Palermo non ha un centro sportivo è qualcosa di futuribile ma ancora non c'è un centro sportivo la speranza sulla falsariga di quello che diceva Cristiano come è accaduto col Montevideo è che possa essere creato il centro sportivo più grande d'Europa magari che in questo momento è torre del grifo sì ma credo che le basi ci siano perché io credo che se un gruppo così importante investa sul Palermo credo che gli obiettivi siano grandi non solo dal punto di vista sportivo perché è molto importante secondo me capire che quello che riguarda la struttura e l'organizzazione di una società poi porta anche ai risultati sportivi cioè avere un centro sportivo di livello avere uno stadio di livello avere anche un'organizzazione una struttura societaria, un marketing fatto in una certa maniera porta poi inevitabilmente risultati sul campo quindi credo che loro partiranno prima da questo e poi andranno anche a intervenire dal punto di vista societario e diciamo sottolineando quello che dicevi anche tu la puntata precedente io credo che i tifosi non debbano avere fretta, non farsi prendere dalla frenesia del momento ma andare con calma perché credo che l'obiettivo primario sia in questo momento quello di capire cosa ha in mente questo gruppo e di mantenere la categoria che quest'anno non sarà una Serie B ma sarà una Serie A2 possiamo dire a livello di blasone di piazzesi sì, soprattutto, quindi credo che questo sia l'obiettivo principale poi da lì si cominciano a gettare le basi per un futuro che credo sarà assolutamente rosio Filippo Corsini, siete sempre di parte leggete i messaggi che vi convengono siccome ce ne sono tanti, l'abbiamo spiegato prima, il flusso continuo purtroppo li cancella poi si possono vedere appena la trasmissione su Facebook o su YouTube è finita quindi se ci stai ancora seguendo Filippo scrivi nuovamente il tuo commento prendo personalmente l'impegno, lo leggeremo se è una cosa educata, noi li leggiamo tutti vai Gabriella, continuiamo a leggere Filippo scrivi di nuovo così lo leggiamo non è vero Filippo, noi leggiamo soltanto i messaggi quelli che fanno piacere a Simone, vero Simone? sì, come no, assolutamente noi leggiamo i messaggi che scrive Il Benzinaio di Simone che oggi non abbiamo ancora salutato assolutamente, ne ho veramente tanti amici soprattutto che sono le trasmissioni quindi leggo i loro ma leggo anche quelli degli altri quindi Filippo riscrivi per favore andiamo avanti, questo è un commento un po' più tecnico Mimmo Russotto, ragazzi, buongiorno relativamente ai giocatori con militanza di almeno 4 anni nello stesso club il Palermo Football Club non ha soltanto 3 anni per esempio a Cardi ha fatto le giovanili nella West Città di Palermo non sono due club diversi? no, no perché c'è stato il fallimento di mezzo purtroppo però si fa riferimento sempre alla stessa squadra che ha cambiato denominazione che ha cambiato appunto ragione sociale brand, tutto quello che vogliamo prima era West Città di Palermo ma adesso Palermo Football Club nel parametro da tenere in considerazione delle bandiere rosanero a Cardi avendo iniziato nel settore giovanile dell'US Città di Palermo avendo fatto poi 3 anni da tesserato di prima ASD Palermo quindi Associazione Sportiva Direttantistica Palermo e poi Palermo FC ossia Palermo Football Club si fa a riferimento cioè è sempre la stessa famiglia lo stesso club quindi a Cardi rientra in quel parametro come si chiama il nostro amico? che ha scritto? lui si chiama Giuseppe Fontana Giuseppe nei parametri della bandiera del Palermo adesso invece Giuseppe fa un bel commento positivo dice godiamoci il momento sento già parlare di Champions non scherziamo diamo tempo al tempo stiamo vicini alla squadra e con pazienza accompagniamo questo percorso di crescita il futuro è rosa facciamo rispondere a Cristiano sono d'accordo è quello che ho detto in precedenza quest'anno io credo che essere in un campionato di Serie B come questo sia molto importante come obiettivo della squadra perché ricordiamo squadre come Cagliari Genoa partiranno ovviamente in prima fila per un posto in Serie A c'è il Parma che ovviamente avrà grandi ambizioni dopo la stagione poco positiva dell'anno scorso c'è il Brescia c'è il Pisa che fino all'ultimo si è giocato un posto per l'A quindi sicuramente tra le favorite o almeno dobbiamo metterle inizialmente tra le favorite Cagliari, Genoa, Perugia senza dimenticare Bari che è salita la stessa Ternana con grande voglia di fare e di investire grandissime squadre almeno 8-10 squadre di grande livello tra cui c'è anche il Palermo perlomeno a livello di piazza poi vedremo quello che farà sul mercato quindi io andrei con molta calma l'aveva sottolineato Simone nella puntata precedente lo ribadisco l'obiettivo principale io credo che sia assolutamente quello di mantenere la categoria sarebbe già un grande traguardo al primo anno non dimentichiamoci da dove arriviamo inutile pensare agli anni d'oro del Palermo in Serie A che ispirava la Champions pensiamo più agli ultimi anni dove il Palermo ha fatto fatica anche a salire dalla Serie D alla Serie C insomma ha avuto un po' di problematiche durante il cammino quindi secondo me dobbiamo goderci il momento come ha detto il nostro ospite e assolutamente io credo che con calma e con progettualità che è quella che credo che avrà il City Football Group potremmo andare lontano e magari perché no provare una corsa ai playoff e poi vedere che succede come è stato quest'anno perché di fatto a iniziare nessuno pensava già alla promozione no e consideriamo anche che il Palermo di questa orbita no? di questa galassia del City Football Group comunque sarà una delle squadre più importanti lasciamo perdere il Manchester City lì c'è l'ambizione l'ossessione di vincere la Champions League quest'anno è arrivata un'altra Premier League sono arrivati tanti traguardi con Guardiola allenatore ma anche alla ciliegina sulla torta per il City ossia vincere la più importante competizione europea per club però il Palermo comunque poi generalmente avrà l'ottanta per cento delle quote parlo di Mansur parlo di questa holding del City Football Group quindi essendo anche la quinta città d'Italia le ambizioni in previsione futura lunga gittata saranno veramente tante rispetto per esempio al Troyes rispetto per esempio al Girona che quest'anno ha ottenuto vincendo i playoff col Tenerife l'accesso alla Liga Spagnola l'equivalente della nostra Serie A quindi la possibilità è sicuramente quello tra qualche anno di vedere un Palermo sicuramente in Serie A questo è un dato di fatto Sì tra l'altro le basi come hai detto tu ci sono perché già vedere squadre come il Girona che viene promosso in Liga incontrerà squadre come il Real Madrid e il Barcellona atletico già questo fa capire che è un progetto serio sano che mira alla crescita Girona 44,3% di quote in mano al City Football Group l'altro per essere precisi il nostro amico dice della matematica 44,3% l'altra parte in mano al fratello di Guardiola quindi nonostante tra virgolette quasi il 50% hanno mantenuto la promessa di portare il Girona in Liga Spagnola quindi sicuramente col Troyes hanno investito una ventina di milioni la squadra chiuso al quindicesimo posto della massima serie francese quindi comunque gli investimenti la voglia di far bene non manca sicuramente al City Football Group gli indizi sono più che positivi ripeto avere già essere in possesso se così possiamo dire di squadre come il Troyes che gioca in Ligani il Girona che quest'anno farà la Liga questa è un'assoluta certezza di progetto serio e capace assolutamente quindi siamo fiduciosi assolutamente parliamo sempre della quinta città d'Italia che fa 34.000 35.000 spettatori nell'atto finale dei playoff di serie C quindi immaginiamo quello che potrebbe succedere già a partire dalla campagna abbonamenti in serie B con questo ritrovato entusiasmo della cadetteria eccetera figuriamoci in serie A quindi non sono dei benefattori anche se qualora volessero potrebbero comprarsi 20 città grandi quanto il Palermo subito in questo istante parlo di Mansur e parlo di tutti i suoi emissari però sicuramente hanno la prospettiva di poter investire di poter creare un indotto straordinario che sta attorno alla prima squadra loro non interessa portare il Palermo ai vertici del calcio europeo allora interessa fare trovare una dimensione calcistica importante nella squadra del capologo siciliano ma soprattutto interessa ultimare il centro sportivo di Montevideo ultimare delle infrastrutture potenziare il brand Palermo potenziare il merchandising è questo l'obiettivo primario inutile che ci giriamo intorno sì sì tra l'altro questo secondo me darebbe grossi benefici a tutta la città perché poi l'entusiasmo cresce anche le strutture diciamo vengono migliorate io credo che se il City Football Group ha visto nel Palermo uno sbocco professionale anche per allargare la propria holding io credo che ci sia un motivo come hai detto tu potrebbe potrebbe comprare 20 squadre 30 squadre se ha scelto il Palermo c'è un motivo ben preciso e quindi credo che ci sia una visione già strutturata io sono assolutamente fiducioso credo che questo questa holding di Mansour che nel 2008 ha rilevato il Manchester City ha fatto grandissime cose anche con altri club io credo che possa assolutamente riportare il Palermo dove merita poi da lì a pensare alla Champions a pensare allo scudetto secondo me bisogna avere tanta pazienza pensiamo troppo in grande ma la cosa principale è ridare vita a una squadra che fino a qualche anno fa sembrava averla persa del tutto alimentare un sogno messaggi allora adesso invece abbiamo Pasquale Conti che ci dice buonasera e voi complimenti per la trasmissione tra le tante notizie che ho sentito i due giocatori bandiera uno è sicuramente Andrea Accardi l'altro dovrebbe essere uno tra i vari la Gummina Iaialo l'unico di questi che potrebbe essere una bandiera secondo lui è Mato Iaialo il resto è storia di giocatori mercenari giocatori mercenari beh mercenari è un termine forte caro amico però è vero ognuno pensa Pasquale ognuno pensa a tirare acqua al proprio mulino però Iaialo è uno di quei giocatori insieme ne faccio un altro di nome Nestorowski che per esempio sono andati a vedere con le famiglie con i bambini vestiti con la maglia rosa nero forse la partita con la trestina la gara di andata quindi questo testimonia il grande attaccamento che è rimasto a determinati tipi di giocatori in tanti hanno elogiato Baldini hanno elogiato la promozione in attesa del Palermo in cadetteria Iaialo sicuramente in Serie B sarebbe un colpaccio ma ce ne sono tanti non mi si potrebbe fare sì io comunque su questo argomento ci tengo a dire che anche ex calciatori del Palermo storici hanno fatto sentire il loro appoggio quindi questo dimostra anche l'affetto della gente a Mauri Barzani a Mauri tornerebbe a giocare in questo momento col Palermo se potesse quindi sì sicuramente Iaialo è un profilo è un profilo interessante io personalmente per la visione che ho io andrei su profili giovani freschi talentuosi come parlavamo prima di Nicolussi Caviglia come parlavamo anche di Nasti del Milan insomma ragazzi giovani che però ormai hanno già esperienza perché comunque giocare in Serie C con la maglia della Juventus è comunque già avere esperienza gente che ha fatto la Serie B come Brescianini come Plizzari quindi io andrei più su profili di questo tipo fermo restando che già abbiamo giocatori come Brunori in questo momento come Soleri che è stato riscattato dal Padova e ci tengo anche a dire due parole su Soleri perché ovviamente è stato messo un po' in ombra dalle prestazioni favolose di Brunori ma Soleri ha fatto 12 gol dalla panchina no no quali in ombra Soleri ha fatto dei gol pesantissimi pesantissimi soprattutto ai playoff e quindi credo che l'averlo riscattato sia stato un affare 200 mila euro un affare assolutamente un vero e proprio acquisto per il Palermo e secondo me classe 97 quindi tre anni in meno di Brunori sia anche stato fatto per questa l'operazione insomma vedere anche un giocatore che sul lungo periodo può garantirti un rendimento importante Soleri credo che in Serie B sarà un grande protagonista c'era una domanda di Gabriele Ruiz è possibile che il City Group riacquisti tutti i vecchi titoli sportivi delle società fallite poi c'è una risposta ovviamente a questo quesito già il Palermo quindi parlo di Mirri della società Era Ora ha riacquistato tutti i brand tutti i vecchi loghi i loghi storici del Palermo quindi da questo punto di vista si può tornare anche al vecchio logo ai vecchi loghi quindi rispondiamo a Gabriele e salutiamo Tano Miceli che ci segue dalla California quindi un grande abbraccio al nostro amico Tano altri messaggi Roberto Giorgio Ivan Alagna invece chiede saluti a tutti in particolare a Simone per me gli fai simpatia si no Roberto un amico l'ossatura della squadra di Baldini dovrebbe ripartire da Luperini Valente Marconi De Rose Giron Oger Lancini a Carli Soleri già riscattato Pella che potrebbe essere il suo anno più di Spera e Brunori beh ne ha messi tanti giocatori che potrebbero fare l'ossatura del Palermo del futuro regia siamo in chiusura giusto mi confermate due minuti scarsi perfetto in questi due minuti insomma sono tanti i nomi che sono stati fatti non perché sono di parte spero in una conferma di Valente un giocatore imprescindibile indipendentemente dalla collocazione tattica ha giocato da terzino ha giocato da mediana ha giocato dall'offensiva destra ha sempre fatto veramente cose egregge a Cardi per il discorso del parametro bandiera dovrebbe essere anche lui riconfermato stesso discorso per De Rose Luperini ancora un anno di contratto anche se ha avuto delle richieste in B e poi Giron Giron è un giocatore che ha fatto benissimo una delle grandi rivelazioni però la serie B è tosta non è la serie C io Giron titolare in una squadra di B in una piazza importante come Palermo anche se stravedo per Giron e lo ringrazio per le sue prestazioni sì io credo che più butterò a destra che Giron a sinistra sia pronto per la B credo che Giron se rimarrà sarà la riserva di un terzino sinistro che andranno a prendere sicuramente io penso che interverranno in quel reparto e su Valente sono assolutamente d'accordo con te tra l'altro merita secondo me di giocare in serie B dopo quello che ha fatto su Foriano ha qualche dubbio non relativo alle prestazioni visti anche i gol pesantissimi che ha fatto più all'età 35 anni scadenza non so se il Palermo valuterà di tenerlo ancora io però è uno di quei giocatori che non fa rumore no assolutamente fa spogliatoio fa gruppo le sue prestazioni le dà è un giocatore che va gestito 35 anni sicuramente in B c'è un ritmo diverso un'intensità diversa Marconi io credo che nonostante i 32 anni possa essere ancora un filastro della difesa e quindi anche se scadenza io credo che possa essere riconfermato perché ha dimostrato di essere uno dei difensori centrali più forti del campionato quindi secondo me molti di loro sono pronti per la B così come anche le rose su Giron qualche dubbio e su Floriano i dubbi sono più relativi all'età che al valore del giocatore è utile dire che poi ci sono tante incognite che almeno una decina di innesti nuovi dobbiamo inevitabilmente aspettarceli ci sono ancora tanti messaggi ne leggo per esempio quello di Matteo che dice ma arriveranno dei giocatori del City in prestito sicuramente sì perché la cantera del Manchester City è una fucina di talenti straordinari ci sono stati tanti giocatori del City girati in prestito agli altri club quindi qualcuno potrebbe arrivare anche a Palermo grazie mille a Gabriella Di Carlo che ritroveremo giovedì prossimo a te Simone e a voi grazie mille a Cristiano Simeti mi stavo confondendo con Sido col City quindi grazie mille Cristiano ovviamente ti riaspettiamo nuovamente all'interno della nostra trasmissione e grazie mille a Roberto Lombardo e Nic Giuliano che hanno coordinato la parte tecnica ma soprattutto grazie a voi per aver partecipato alla nostra trasmissione